ciao a tutti e benvenuti ad un come nel video di oggi effettueremo degli esercizi per bruciare grassi con un lavoro ad alta intensità cominciamo con alcuni salti sul posto per fare ciò saltiamo cercando di evitare che le nostre ginocchia si uniscano per questa ragione mettiamo un elastico mettendo l'elastico normalmente le nostre ginocchia tendono ad unirsi ma noi faremo forza affinché ciò non avvenga eseguiamo l'esercizio per 20 secondi stendiamoci per terra e facciamo un plank durante dieci secondi alziamoci ora e posizioniamo le gambe a 90 gradi scendiamo con le ginocchia rivolte all'infuori e manteniamo la linea delle ginocchia all'altezza delle spalle per venti secondi torniamo a terra in posizione di plank per dieci secondi ci mettiamo in posizione di 4 ed eseguiamo un'elevazione laterale per venti secondi da un lato e 20 secondi dall'altro è importante non ruotare l'anca cambiamo la gamba e ricorda che il ginocchio sia sempre allineato con il nostro fianco ripetiamo il plank per dieci secondi ci sdraiamo sulla schiena con le gambe divaricate all'altezza delle spalle ed eseguiamo un sollevamento dell'anca per venti secondi ricordate di stringere sempre i glutei mettiamoci di nuovo a terra in posizione di plank per dieci secondi straiamoci completamente e posizioniamo l'elastico sulle caviglie facciamo un po' di ipertensione e andiamo su e giù per venti secondi e per terminare altri dieci secondi di plank e con questo avremo completato il primo circuito dovrete ripeterlo per altre due volte grazie mille per essere stati con noi speriamo il video ti sia stato utile ah e se ti è piaciuto il contenuto e vuoi saperne di più non dimenticare di mettere like ed iscriverti al canale grazie mille per altri